Nella giornata di domani partirà il cantiere per la riqualificazione dell'ex mercato coperto a Teramo. Il Comune ha trovato l'accordo con i commercianti di Piazza Verdi che prenderanno posto nella zona adiacente a Piazza San Francesco, quella che un tempo ospitava il mercato dei fiori. Lì verranno trasferite tutte le attività che dovranno stare lontano da Piazza Verdi per almeno tre anni, tempo stimato per la durata dei lavori. Sì, intanto sono iniziati, iniziata proprio questa settimana, già l'attività per liberare l'area antistante e quindi nel corso dei prossimi giorni partirà il cantiere operativo, esecutivo di un'opera importantissima per la nostra città. La riqualificazione del mercato coperto si attendeva da decenni, dopo anni in cui le precedenti amministrazioni hanno lasciato nel totale degrado ed abbandono la struttura del mercato coperto, mettendo delle pezze che non hanno risolto il problema. Interveniamo con un progetto di rigenerazione e riqualificazione di circa 10 milioni di euro che ci consentirà di valorizzare quella struttura per il bene della città, non solo ed esclusivamente sotto l'aspetto commerciale, ma in un ambito ampio che coinvolge ovviamente il Teatro Romano e il Braga. Chiaramente questo ha determinato una serie di disagi per le attività commerciali che insistevano, all'interno del mercato coperto e che voglio ricordare è stato chiuso per disposizioni dell'autorità sanitaria di sicurezza proprio perché in passato non è stato fatto nulla. Oggi gestiamo appunto la fase transitoria con lo spostamento delle attività del mercato coperto nell'area di Piazza San Francesco e su Madonna delle Grazie per quanto riguarda le attività del sabato. Quindi ci sarà una fase ovviamente di difficoltà, di disagio di spostamento dove ovviamente daremo come amministrazione tutto il supporto alle attività commerciali interessate con l'auspicio appunto di poter rientrare prima possibile nell'area di Piazza Verdi che sarà oggetto di interventi importanti proprio nel corso dei prossimi mesi non solo per il mercato coperto ma anche per gli altri cantieri che insistono su quell'area. L'edificio sarà messo in sicurezza e riorganizzato in chiave moderna per riaccogliere piccoli produttori agricoli, artigiani e ristoratori grazie ai fondi del PNRR per oltre 5 milioni di euro. Per quanto riguarda il mercato del sabato gli ambulanti di Piazza Verdi saranno trasferiti in largo Madonna delle Grazie lungo la via che costeggia il palazzo dell'Agenzia delle Entrate già dal prossimo fine settimana. Sì, si sta procedendo a mettere a punto tutte le carte con le planimetrie quindi speriamo di partire già da questa settimana l'amministrazione si è messa con i propri uffici pienamente a disposizione per definire tutte le procedure.